L'inchiesta sul Moscati di Avellino e la vicenda degli otto falsi positivi si arricchisce delle dichiarazioni rese dai diretti interessati, i due medici e i sei infermieri, i cui tamponi avevano dapprima accertato il coronavirus, mentre poi la doppia contraanalisi incrociata anche con il Codugno ha dato esiti negativi. Proprio loro, protagonisti involontari dell'episodio e di quanto è successo nei giorni a seguire, sono stati ascoltati dai carabinieri del nucleo investigativo di Avellino guidati dal capitano Quintino Russo. Ricostruiti i passaggi, il focus degli investigatori, coordinati dal PM Vincenzo Russo, si è concentrato sulle ore cruciali seguite immediatamente al primo riscontro. Ai raggi X le turnazioni di servizio alla città ospedaliere e la compilazione delle cartelle cliniche, oltre al momento preciso del rientro in servizio attivo nei rispettivi reparti. Ma non è tutto, sotto la lente d'ingrandimento della magistratura vellinese sono finiti anche tempi e modi dell'organizzazione del Covid Hospital dei Moscati, la struttura allestita nella palazzina Alpi, quella destinata alle prestazioni professionali degli specialisti in intramenia, solo per i ricoveri di pazienti affetti dal virus. I ritardi registrati rispetto alla scadenza annunciata dal direttore generale Renato Pizzuri e le motivazioni alla base dello slittamento dell'entrata in funzione del reparto dedicato, con i posti letto in terapia intensiva e subintensiva, dunque rientrano a pieno titolo nell'inchiesta, anche perché diventano fondamentali nel contenimento del contagio, così come i protocolli di sicurezza e l'efficienza dei macchinari del laboratorio di virologia, tutti aspetti che gli inquirenti stanno vagliando con molta attenzione. Grazie 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 Grazie